I risultati sono andati alla grande, tanti bei piazzamenti, dei podi, anche nelle gare distance mi sono sempre ben comportato, soprattutto nelle ultime due, che erano quelle che sapevo essere le meno congeniali alle mie caratteristiche, invece ho tirato fuori due top 10 inaspettate, che mi hanno fatto rimanere lì in zona calda della classifica, peccato per non troppi secondi giù dal podio, la classifica generale del tour de ski, ma comunque una grande soddisfazione.